Il recupero funzionale è nato oltre 20 anni fa. È un'attività medicale? Non è un'attività medicale anche se accogliamo persone con problematiche croniche e persone che arrivano dalla fisioterapia. All'Eden il recupero funzionale lo svolgiamo sia in palestra che in piscina. In piscina facciamo esercizi ginnici su attrezzature specifiche, speciali, create da noi. In parallelo abbiamo creato anche il nuoto wellness. Che è una tecnica speciale per decomprimere la colonna vertebrale, riequilibrare la muscolatura e stimolare la microcircolazione. Sia in palestra che in piscina il recupero funzionale può essere svolto sia in grandi gruppi ma vengono fatti anche lavori individuali per garantire una qualità del lavoro ottimale sul singolo individuo. Ci siamo guadagnati la fiducia di molti medici. E anche di molti fisioterapisti. I miei protocolli di lavoro sono riconosciuti dall'Università di Firenze e ho fatto ricerca con l'Università di Padova. Il recupero funzionale è la porta d'accesso all'interno del nostro centro per molte persone problematiche. Con il passare del tempo siamo riusciti ad accompagnare queste persone da un livello base fino ad arrivare ad attività sportive un pochino un po' più complicate come può essere il nuoto master. Queste persone sono arrivate fino a partecipare a competizioni sportive all'interno della regione. Io però adesso ho un grande problema. Come mai non mi cercano più? Forse perché preferiscono quello giovane o il bravo? È un classico esempio dove l'allievo supera il maestro? Ma forse perché magari anche gli occhi azzoni? Ma... Fai fatica a muoverti? Hai dei dolori? Non ti preoccupare, ti aiutiamo noi.